Voglio che tu scrivasi su questo diario i tuoi ricordi. Ad esempio quali? Ti insegno quello che so, ti do tutto quello che vuoi. Devi fidarti di me, sono tuo padre. Certe volte vorrei essere al tuo posto. Essere famoso per i fotografi, le ragazze che mi corrono dietro. Bravo, bella scena, bravo, bravo, bene, bravi tutti. Andiamo, mi mancava. Lavoro a minorine! Puoi camminare sull'acqua finché qualcuno non ti dice che non sai farlo. Perché tua madre lavora? Per ogni evenienza. Per quale evenienza? Se non ce la facessi? Sì, invece, ti riempie la testa di paure. Io non lo faccio mai. Siamo una squadra e lo sai che significa? Sei una cazzo di stare, è per questo che io sono qui. Sono la tua cheerleader, ragazzo. Sai, più cresci, più cose impari sulla vita. Capisci da dove provieni. E tu provieni da una stirpe di brave persone che stavano male, non sapevano che cazzo farci. Allora bevevano. La sola cosa che ho ricevuto da mio padre che abbia un minimo valore è la sofferenza. A presto! A presto! A presto! Grazie a tutti